Cristian di Venezia, 12 anni, ama le favole di Pinocchio. Due domeniche fa, nella casa di campagna dei nonni, si è messo a scavare nel giardino per fare una buca e nascondere il suo diario. Ha trovato quel nascondiglio che era già stato utilizzato prima di lui da qualcuno dei nonni. Così inizia un comunicato inviato dall'associazione Agitalia. La storia però è sempre la stessa. Trova un barattolo, lo consegna alla nonna e scopre il tesoro, ossia 20 milioni di vecchie lire. È successo a Foggia nel 2014, a Prato nel 2016, pochi giorni fa a Pordenone e ora nel Veneziano. Però i barattoli sono sempre gli stessi e le banconote identiche, da nord a sud. Contattato, il responsabile che ha inviato il comunicato lasciando a disposizione il numero di cellulare afferma che la foto è stata scattata due o tre settimane fa a Mestre. Ora abbiamo mandato la diffida alla Banca d'Italia e stiamo aspettando la risposta. Una bufala bella e buona, come è accaduto in altre occasioni da parte degli stessi mittenti.